Buongiorno a tutti i fanciatori youtube, sono a volte benvenuti a questo secondo vlog di una delle costruzioni Lego la prima era la scheda a volte che si illuminava e questo invece è già più complicato ed è il volante di Formula 1 non ci assomiglia per niente perché poi qua i colori sono tutti diversi però io sono basato in Formula 1 e quindi ho tentato di riprodurlo spero che vi piaccia quando ve lo spiego nel senso adesso che ve lo spiego spero che lo apprezzate che cavolo sto dicendo comunque non importa ecco questo è il volante questi sono cose decorativi ma non funzionano niente per esempio qua sono due levette questo gira in questo modo così e poi qua gira e qua un pulsante così a caldo ma comunque non servono a niente sono solo a scopo decorativo e adesso passiamo alla parte più tecnica questa è la batteria la batteria è il cuore del circuito elettrico e questa mi sembra che sia la media mai da batteria perché mi sembra che c'è anche quella grossa o quella piccola comunque trovate più informazioni nel Lego store dove sono andato a comprarli vi consiglio quello il più vicino a me dove abito io è quello in piatta San Babila e devo dire che è molto cioè ha molte cose molti sette Lego magari in un altro ce ne sono di più però io mi fido sempre a quello di San Piazza San Babila ogni batteria ha questa base questa base serve ad attaccare le altre basi degli utilizzatori vi spiego ogni utilizzatore ha questa base che si attacca qua qua si trova la base dell'interruttore e la base del motore il motore non serve a granchicenza non serve a muovere niente ma serve a fare il tipico rumore di Formula 1 sentite questo è questo è il rumore che fa il motore e mi sembra che ci assomigli un po' e inoltre appunto oltre a che fosse collegato al motore è collegato all'interruttore che sarebbe questo qua questo interruttore è un interruttore ed è collegato alle luci quindi quando faccio così attacca si è rotto il vetro quando faccio così si attiva le luci e quando faccio così si disattiva potrei anche metterlo qua dietro ma c'è questo pezzo di lego che blocca quindi le luci si trovano qua dietro adesso tolgo scusate se ho coperto la telecamera però mi dispiace e quindi qua ci sono le due lucine che quando attivo il motore attivo questo ok adesso puoi spegnere e poi volevo dirvi un'ultima cosa che il motore il motore appunto serve a muovere mette le ruote o altre cose la direzione delle ruote per esempio avanti o indietro è determinata da metterlo avanti oppure indietro mi sembra che se lo metti avanti fongi l'orario indietro l'antiorario non mi ricordo ma comunque il moto che segue è opposto ecco e poi volevo dire un'ultimissima cosa e chiudo qua il video se volete un tutorial su come costruire questo che ho costruito io ragionami 13 like oppure scrivetelo nei commenti se invece vorreste costruire anche voi un volante formula 1 ma diverso dal mio magari anche migliore basta che andate in questi trovare andate nei nego store e cercate questi materiali questi questi qua e non vi consiglio di comprare la scatola quella contenente tutti i pezzi perché è cosa di più vi consiglio di prendere i pezzi singoli perché mi ha consigliato così il cassiere del scoso ed appunto aveva ragione quindi vi consiglio di comprarli separati per questo video questo video può finire qui mettete like se vi è piaciuto o non è piaciuto questo video e mettete 13 like per un tutorial se volete perché io non lo farei perché non mi va di distruggere questa cosa però se voi ci tenete tanto allora lo faccio sono disposto e quindi scrivetene come se volete un altro vlog di lego e al prossimo video ciao ragazzi